Sono iniziati i laboratori della Kids University. Dopo l'inaugurazione di giovedì 15 settembre, con l'apertura della mostra La magia dei colori in biblioteca Frinzi, alvia anche i Kids Lab Scuole. Nella mattinata del 16 settembre il Prato della Mensa del Palo Zanotto ha ospitato due laboratori organizzati dall'Ateneo in collaborazione con il Festival Tocca T e l'Ulss 20. Sentiamo le parole del Rettore Nicola Sartor. Buonissima giornata, anche questa coincidenza che non è casuale ma è programmata perché in fondo si tratta dei bambini e bambini della stessa fascia di età quindi l'aspetto ludico tipico del Tocca T con l'aspetto del contatto con la cultura e la scienza dei nostri laboratori. Questo è stato possibile anche grazie alla disponibilità dei nostri colleghi e colleghi che fanno tutto questo su base volontaria. L'anno scorso mi è stato detto che qualcuno inizialmente era anche imbarazzato all'idea di avere in classe, anziché i ventenni, avere bambini e bambini di otto anni però una volta rotto il ghiaccio qualcuno di loro ha anche capito l'importanza perché c'è un aspetto che sicuramente è vero e è la curiosità intellettuale che hanno le persone in quella fascia di età, difficilmente ce l'hanno gli adulti quindi bisogna poterli esporre anche a questo mondo. Una collaborazione con la Tralateneo e il Tocca T che dura già da alcuni anni e si è ampliata a partire dal 2015 con la Kids University. La collaborazione Tocca T Università che parte da, forse anche, non dico dalle prime edizioni però con la web radio c'è sempre stata questa forma di collaborazione quindi importantissimo. Due anni invece legato alla Kids University. Il venerdì mattina, che era un'attività che prima facevamo nelle piazze, lo facciamo all'interno dell'università dove alunni e alunne degli istituti primari e degli istituti secondari di primo grado, vengono e provano dei giochi simili a quelli del paese ospite. L'anno scorso era la Catalunia, quindi erano giochi catalani, quest'anno invece la Cina, giochi cinesi ma soprattutto i giochi che raccontavano la storia dei viaggi perché è una narrazione, bene o male, tra Venezia e il mondo della Cina.